Con la migliore aerodinamica al mondo, 022, un design sportivo all'avanguardia, la CLA segmento. Berlina sportive a quattro porte di nuova concezione riprende l'idea della CLS che nel 2003 ha creato un nuovo segmento di mercato. Con le sue porte senza cornice la CLA riprende il design del concept style coupé e lo trasferisce senza soluzioni di continuità nella produzione di serie. La CLA è equipaggiata di serie con un sistema frenante dotato di radar, il Collision Prevention Assist, che segnala eventuali ostacoli già da 7 km l'ora di velocità e frena in modo efficace e puntuale non appena il guidatore preme il pedale del freno. Sono di serie anche i cerchi sportivi di 17 pollici e il sistema multimediale Audio 20 tablet con interfaccia Bluetooth. Disponibile in concessionaria da aprile 2013, la CLA può essere già ordinata con prezzi che partono da 29.000 euro. La CLA è disponibile in tre versioni molto ben equipaggiate, Executive con cerchi in lega di 17 pollici e tablet con viva voce Bluetooth, Sport con cerchi di 18 pollici, telecamera posteriore e sistema multimediale tablet con navigatore Premium con styling e cerchi da 18 AMG, fari Bixeno, telecamera posteriore e sistema multimediale tablet con navigatore. Inoltre la CLA può essere ulteriormente personalizzata con diversi pacchetti per uno stile tailor-made.